Jerome sei tornato nelle prime posizioni, adesso bisogna confermarle. Sì, abbiamo fatto una bella qualifica, c'è sicuramente quella migliore dell'anno, peccato per la Superpol, comunque siamo competitivi, quindi penso che possiamo andare a puntare al podio e andare a prendere un po' di punti, punti grossi che quest'anno ne abbiamo bisogno. Grazie.